Carica ragazzi! Undici lunghi anni di attesa, di attesa per una giornata come questa, per la ricerca della gloria, un'ultima battaglia, un'ultima difficilissima battaglia di una stagione giocata alla grande dai ragazzi. Raga, cosa chiedere di meglio? Si vive per queste emozioni, si vive per giorni come questi, per l'attesa, l'attesa della partita. Ore 18, tutti uniti. Volevamo essere a Milano per farvi vedere la festa, soprattutto a tutta la gente che abita lontano, che abita in Sicilia, che abita in Calabria e non può esserci. Ma nulla! Sala out! Ma non ci interessa, quest'anno vogliamo godere di una festa grandissima. Noi saremo lì con la squadra, con il cuore, chi potrà essere allo stadio sarà allo stadio, chi fuori dallo stadio, chi nelle proprie case, ma saremo tutti uniti. Per un unico obiettivo, lo scudetto, che tanto ci meritiamo, che tanto abbiamo sudato per ottenere. Raga, questo campionato ha un'importanza incredibile, potrebbe cancellare 11 anni di nulla. Quindi sono emozionatissimo, so che lo sarete anche voi. Raga, sarà una giornata lunghissima. Io credo nei ragazzi, sono sicuro che daremo il massimo, daremo il 100% per ottenere il risultato. Ci vediamo stasera. Forza lotta, vinzerai. Iscrivetevi al canale.